4 soldati morti, uno gravemente ferito ed alcuni civili feriti leggermente. Questo il bilancio dell'attentato avvenuto questa mattina a Gerusalemme quando un camion, in corrispondenza della passeggiata sopra la città vecchia, si è gettato su un gruppo di militari appena scesi da un autobus. Le vittime sono tre donne e un ragazzo di 20 anni. Un sospetto con il suo camion ha travolto delle persone a una fermata dell'autobus. Molte di queste sono rimaste ferite, alcune morte e tra queste ci sono alcuni soldati. Le unità di pattuglia speciali e la polizia stanno ancora indagando, ma hanno messo in sicurezza l'intera zona, alzando il livello di attenzione in tutta Gerusalemme per paura di attacchi simili. Secondo una prima ricostruzione, il camion aveva targa israeliana e l'autista è stato immediatamente ucciso e identificato in un palestinese di 28 anni, Fadi Al-Kambar, residente a Jabal Mukaber, quartiere ad est di Gerusalemme. Da Gaza arriva il plauso di Hamas, mentre il ministro degli esteri israeliano, Emmanuel Nashon, ha definito l'attacco come un problema dell'odio palestinese.